Siamo arrivati all'ultima parte di questa nostra mattinata dopo aver parlato appunto di una cultura, un'organizzazione, un modo di avvicinarsi al cliente che è molto più coinvolgente dai social ai consigli all'educazione e quindi che le tecnologie permettono di fare. Adesso passiamo dalla teoria alla pratica e vediamo con questi tre workshop che faremo ad adesso appunto di affrontare gli argomenti che sono il workshop 1 connected mobility, workshop 2 domotics e connected home e workshop 3 a tema e-health e silver age. Allora il workshop 1 sulla connected mobility si terrà in questa sala, il workshop 2 sulla domotics e connected home si terrà nella balconata d'ingresso del foyer qui alla mia destra, il workshop 3 a tema e-health e silver age si terrà invece nella sala gialla al piano meno 1. Sala gialla comunque. Io invito per il primo, tanto invito i relatori quindi il pubblico qui presente a dividersi nei tre workshop che intende seguire. Per quanto riguarda il nostro workshop 1 in questa sala chiamo ora il moderatore che si chiama Gianluca Lorenzi, head of Reale Lab 1828, Reale Mutua Assicurazioni. Buongiorno. E chiamo anche i relatori Emanuele Basile, head of Southern Europe Product and Underwriting di Allianz Partner, Francesco Bardelli, amministratore delegato di Generali Genio e Simone Nardocci, chief operation officer di Evolution. Grazie. C'è stato un cambio di cambio, è stato un cambio Bardelli, non c'è, ci sono io Gottardo. Ah ok, allora però si deve presentare... No, 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 sono Francesco Gottardo, di Generali Genio e Simone Nardocci, chief operation officer di Generali. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi proveremo a fare un workshop, anche se in realtà la posizione noi seduti qui sul palco e voi seduti lì è difficile, ma abbiamo concordato con Emanuele e Francesco che la cosa che ci piacerebbe fare è percorrere le tre domande fondamentali che abbiamo condiviso e che qualcuno di voi avrà avuto occasione di leggere nell'agenda e che parlano di quelli che sono gli sviluppi futuri che ci possiamo attendere con degli orizzonti temporali più o meno lunghi nel mondo dell'insurance sulla mobilità. Ma quello che vorremmo davvero riuscire a fare è partire dagli stimoli, dalle risposte, dagli argomentazioni che ci verranno proposte dai nostri ospiti per chiedere anche una vostra partecipazione attiva. Ci piacerebbe sentire opinioni e riflessioni, ulteriori domande e vedere se riusciamo davvero a discutere un po' insieme di queste tematiche. La tematica di riferimento è mobilità connessa e underwriting, come cambia l'offerta di prodotti assicurativi. Direi che l'argomento è quantomeno sensibile per tutto il mercato assicurativo in Italia, questo è certo. Inizierei chiedendo a te Emanuele se sei d'accordo, quali prodotti avranno successo e quali no? Buongiorno a tutti. Confermo che la soluzione non invita al workshop, ma noi cercheremo ovviamente di sollecitare i vostri interventi. Quindi cerchiamo di pensare di uno stacco rispetto alla formula precedente in cui avete assistito ad una relazione. Questa è l'occasione per fare delle riflessioni su quello che la mobilità e l'industria assicurativa relativa alla mobilità potrà avere delle trasformazioni in un orizzonte temporale che potrà essere in questo workshop pensato per cinque anni e orizzonti temporali anche più estesi. Quindi tornando alla domanda centrale, è una domanda che ha bisogno di alcune premesse. Parliamo del mercato italiano, un mercato che si rivolge e recepisce delle sollecitazioni che sono tipiche di alcune aree del territorio e quindi del mercato e questo va sicuramente messo in evidenza. Giusto per avere una premessa di quello che dobbiamo valutare, non dobbiamo dimenticarci che in 60 milioni di abitanti oggi sono distribuiti su 14 aree metropolitane in Italia per soli 20 milioni. La distribuzione del parco auto è anche diversa rispetto alle aree metropolitane, rispetto al resto del territorio e quindi quando si parla di prodotti assicurativi o di servizio con elevata componente tecnologica, connessione in tempo reale bisogna sicuramente non generalizzare negli approcci ma prendere ad obiettivo quelli che possono essere certamente dei trend dettati o comunque influenzati dal progresso tecnologico, ma non dimenticare anche le realtà dei paesi, dei territori e le specificità. Quest'altro tema importante delle specificità dei paesi, qualcuno ne ha fatto accenno stamattina, le soluzioni non vanno bene per diversi paesi, soluzioni generalizzate, sicuramente la mobilità è impattata in maniera importante da sviluppi tecnologici che si possono riassumere in tre parole. La connessione in tempo reale, la capacità in alcune aree, soprattutto quelle in metropolitane, di mettere a fattor comune i mezzi e quindi quello che oggi va sotto il nome di sharing e sicuramente la possibilità di selezionare tramite la mappatura di comportamenti e di la collezione di dati riuscire a clasterizzare i rischi in maniera tale da poterli comprendere meglio. Quindi queste tre macro aree sicuramente sono alla base della valutazione e del disegno dei prodotti dei prossimi anni. Direi degli stimoli molto interessanti, grazie. Mi permetto di approfondire un attimo Francesco, prima di girare a te. Una delle tematiche che secondo me è molto interessante, abbiamo individuato i trend tecnologici, connessione correttamente, modelli di uso e di possesso di vetture, quindi lo sharing e nuovi modelli di analisi dei dati, quindi l'artificial intelligence, i big data e tutto quello che concerne. Ma hai sottolineato anche, secondo me in maniera molto corretta, una sorta di fortissima divisione tra le realtà metropolitane e le realtà esterne. Quindi una delle complessità probabilmente che dovremo essere in grado di gestire come assicuratori è quella di far convivere delle offerte di prodotto differenziate in un mercato che cambia, ma non soltanto una clasterizzazione di basso livello. Probabilmente stiamo parlando di offerte assicurative molto distanti tra loro, proprio perché vanno a toccare modelli di vita e di interazione sociale molto diversi, facendo in modo che ambedue convivano in questa realtà. Quali sono i... Primo, è corretto questa interpretazione? E secondo, vedi dei rischi particolarmente rilevanti o delle difficoltà particolarmente rilevanti in un approccio come questo? Allora, assolutamente corretto. No, rischi non ne vedo in particolare, io vedo soltanto opportunità. Certamente chi meglio riuscirà a comprendere queste specificità, questi bisogni, che derivano da esigenze reali, potrà meglio raccogliere, diciamo così, i frutti di queste analisi. Che cosa vuol dire? Che è chiaro che il mercato, come mi piace sempre dire, non lo fa l'assicurazione nel momento in cui si vanno a definire o a identificare i bisogni. Il mercato esiste, quindi tutti noi siamo consumatori, prima ancora che player di un mercato, e i modi di consumare sono fortemente cambiati negli ultimi anni e continueranno a cambiare. Certamente, se vediamo le statistiche, per esempio, delle vendite online, la distribuzione delle vendite online non ha la stessa incidenza sul mercato delle vendite su tutto il territorio nazionale. Ancora una volta, le aree metropolitane sono avvantaggiate rispetto ad altre aree, se non altro, per la rapidità del delivering, della consegna dei prodotti, per esempio. E quindi questo significa che la concorrenza in quel settore con i punti di vendita fisici è una concorrenza più difficile. Nelle aree metropolitane, invece, le vendite online stanno mangiando buone fette di mercato ai punti vendita fisici. Che cosa significa questa cosa? Questa cosa si è già vista nel mercato dell'auto, sebbene con delle battute d'arresto, delle impennate e poi delle stabilizzazioni, per esempio, sulle assicurazioni online, digitali. Più di dieci anni fa si diceva che il mercato delle assicurazioni online distruggerà il mercato della distribuzione fisica, delle reti distributive. Questo non solo non era vero allora, si poteva anche prevedere, non è stato vero. Poi qualcuno ha capito che ci sono, diciamo così, delle stabilizzazioni di potenzialità di questi mercati, che sono comunque in crescita, ma con i punti di contatto di oggi, attuali, non riescono a sfondare. Quindi, in che cosa questi punti di contatto, per esempio, verranno modificati? Beh, con l'introduzione delle nuove tecnologie. Chi avrebbe detto più di cinque anni fa che le vendite online sarebbero passate in gran parte dai telefoni cellulari e non dai computer, da scrivania o dai laptop? Era una cosa da scienziati, non certo da divulgatori scientifici ancora. Oggi accade questo. Quindi è chiaro che quando i punti di contatto stanno diventando più digitali, il consumo, quindi il mercato dei consumatori, impara nuove modalità di consumo. E l'industria assicurativa, per un fatto naturale, arriva tardi sui consumatori. Noi impariamo prima, quando siamo bambini, a comprare vestiti alimentari. Poi, quando arriviamo a... Forse il minimo era a 14 anni con un motorino, ma spesso la transazione o la valutazione la fanno i genitori, arriva il primo contatto con le assicurazioni. Ma i consumatori hanno già imparato a consumare. Ecco perché diventa un paradigma il parallelismo con altre industrie. Perché si impara a consumare su retail, si impara a consumare su altre modalità di industria e, come è noto, ci si aspetta un'esperienza di acquisto o comunque di interrelazione analoga quando si atterra nell'industria assicurativa e quindi quando si sente il bisogno di protezione, servizio. Ne possiamo parlare ampiamente. Cioè, voglio dire, anche la composizione del prodotto, chiamiamolo ancora oggi assicurativo, oggi sta, diciamo, subendo delle interessantissime trasformazioni. Che cos'è assicurazione? Che cos'è bisogno di risoluzione di situazioni complicate? al momento del bisogno. E che cos'è, invece, quella che si può chiamare una coccola? Cioè, io non ho voglia di farlo. Se c'è qualcuno che lo vuole fare per me, tanto meglio. Queste tre cose sono molto differenti. Eliminare una perdita economica consistente, qualcosa che è fortemente legato all'assicurazione. Risolvere una situazione complessa che non so risolvere. Rimane sempre legato all'assicurazione, ma, diciamo, c'è una elevata componente di servizio. La gestione di un sinistro è importante, non soltanto perché elimina la perdita economica, ma perché le assicurazioni oggi sono brave a risolvere sinistri, sono brave a risolvere situazioni in cui gli individui da soli si troverebbero in gravi difficoltà. E la terza, invece, io non ho proprio voglia di farlo. Quindi, se c'è qualcuno che mi offre un servizio facile, accessibile, ad un giusto prezzo, e perché no? Grazie mille. Parola ricorrente molto importante che trovo molto centrata è il tema servizio. Chiedo a Francesco, che è l'head of IoT and Digital Prototyping e Data Model di Generali Geniott, scusami, di rispondere più o meno alla stessa domanda, anzi, di rispondere alla stessa, se non ti spiace, ma partendo da alcuni di questi spunti, perché così diamo un po' di materiale in più per la discussione che, mi auguro, si animerà subito dopo. Servizio, tecnologia, distribuzione, evoluzione del prodotto assicurativo. Ci sono un bel po' di componenti per provare a tirare fuori un paio di ideucce su cosa pensi che sia il futuro prossimo, anche tu. Provo a costruire dove ha seminato Emanuele, sui tanti spunti che ha dato. Sicuramente, secondo me, dobbiamo metterci nell'ottica di idee che il mercato fra 5-10 anni non sarà lo stesso di quello che sarà fra 20 anni. Questo è abbastanza chiaro, credo, a tutti. Bisogna prima capire quali sono i macro trend che ci sono dietro, i prossimi 5-10 anni che sono fondamentalmente auto più sicure, perché al 2030, tu prima citavi il 2030, il 2030, come data di un po' di stacco anche del mondo della mobilità, della nuova mobilità. nel 2030 ci aspettiamo di avere il 70% del parco connesso con alcuni stemmi di ADAS, quindi delle auto appunto più sicure. C'è un trend molto forte per l'elettrico, c'è un trend molto forte di auto connessa. Al 2030 noi ci aspettiamo che il 100% della nuova produzione auto sia nativamente connessa, al posto delle attuali auto connesse con le black box che noi vendiamo, commercializziamo. Sicuramente anche un'auto più condivisa. le logiche del car sharing sono delle logiche in forte espansione, quello che diceva prima Emanuele è corretto, attenzione che in realtà il mondo non è solo le grandi città, però ci sono forti trend di urbanizzazione, quindi sono dei trend in crescita da osservare. E anche sarà un'auto meno di proprietà, ci sono logiche di noleggio a lungo termine, logiche di leasing, quindi tutti questi aspetti secondo me vanno a premere sul modello tradizionale dell'assicurazione. Quindi le auto più sicure mi aspetto meno sinistri, quindi tendenzialmente dei premi più bassi. Le auto condivise mi aspetto meno, diciamo un pool di vendita più limitato, perché c'erano meno auto di proprietà. Le auto in leasing mi spingeranno a fare, le auto in leasing a noleggio a lungo termine, mi spingeranno a fare polizze B2B, quindi non una negoziazione diretta col cliente, ma magari grandi tender con player, car manufacturer, piuttosto che leaser, molto aggressivi. e quindi secondo me, e questo è uno scenario a dieci anni, perdonami Gianluca, quindi mi aspetto anche che se parliamo di uno scenario più futuribile, le incertezze siano ancora maggiori, perché poi entrano i trend dell'auto autonoma, dell'auto autonoma condivisa, quindi sono secondo me scenari molto più complessi da ipotizzare. Su questa forte pressione nel mondo assicurativo tradizionale, mi aspetto anche che ci siano dei trend da intercettare di prodotti nuovi che vengono richiesti dal cliente, quindi ci sono molti clienti che vogliono polizze on demand, micro assicurazioni, polizze contestuali, le paper use classiche, quindi polizze solo, che sono tutti concetti un po', secondo me, contrarie a quello che è il concetto basico dell'assicurazione, la mutualità, quindi io spesso scherzo, dico che per me un ottimo cliente è un cliente che ha l'auto assicurata con me e la tiene ferma nel garage di una casa assicurata con qualcun altro, quindi il massimo della protezione che possa avere, però secondo me quello che dobbiamo capire per fare dei prodotti di successo è come sofisticare la tariffa, quindi capire effettivamente, migliorare e capire qual è il rischio del cliente e qua, come diceva anche Emanuele, la tecnologia ci aiuta molto, perché l'autoconnesse è un primo esempio, ma sicuramente la quantità di dati che oggi abbiamo a disposizione ci possono aiutare a sofisticare prodotti e tariffe andando incontro alle esigenze del cliente e non ovviamente spremendolo. Di nuovo tanti stimoli, secondo me, molto interessanti. Modelli di condivisione della vettura, noi assicuriamo vetture, se quella vettura viene utilizzata al 5% da 20 persone diverse, qual è il rischio che andiamo a assicurare? Questa è una prima domanda a cui potremmo dover iniziare a rispondere. Non sarà la parte preponderante del mercato nel prossimo futuro, però è una parte crescente, quindi la taylorizzazione delle coperture assicurative è regata a rischi completamente diversi. i concetti di mutualità, l'instance insurance. Oggi il car sharing in realtà stiamo parlando, mia personalissima visione, non di una vera sharing, è un noleggio a breve termine, orario, lasciatemi dire perché di questo si tratta, però l'offerta assicurativa ancora deve trovare un modello di posizionamento. Va bene avere il tempo di discuterne, va bene pensare a come affrontare queste dinamiche, va bene iniziare a mettere in portafoglio un po' di questo rischio perché ha delle incidenze, delle percentuali bassissime, quindi assolutamente gestibili per imparare. Ma poi resta, secondo me, la domanda del come formuleremo correttamente un'offerta quando queste percentuali di penetrazione saranno sempre maggiori. E lì probabilmente le nuove tecnologie, di nuovo, ci daranno una mano, artificial intelligence, nuove modalità di indirizzo, sia delle variabili che dei calcoli del rischio. Se siete d'accordo, a me piacerebbe sentire, se lo volete fare, se no noi andiamo avanti con la nostra discussione frontale, ma mi piacerebbe sentire delle opinioni, delle domande, degli stimoli da parte della platea. Grazie mille. Credo che ci dovrebbe essere qualcuno. Grazie. Sto in piedi. Allora, colgo l'occasione per fare una domanda relativamente alla necessità oggi di avere dei prodotti che siano competitivi e che costituiscono un enorme vantaggio competitivo. non c'è bisogno di dire che effettivamente i prodotti che avranno un enorme vantaggio competitivo sono quelli personalizzati, calibrati perfettamente sulle esigenze sempre più particolari e personali di ogni cliente. Però la domanda che sorge spontanea è questa, a me sorge spontanea è questa. Come coinvolgere il cliente non più solo come si è fatto finora sulla distribuzione dei prodotti assicurativi ma bensì nel processo stesso di creazione dei prodotti e dei servizi assicurativi. Questa è la domanda a cui gradirei è possibile avere una risposta o comunque spunti di riflessione. Grazie. Grazie mille. Trovo la domanda estremamente interessante e la trovo anche molto vicina ad alcuni dei trend che vediamo giusto per declinarla un attimo sino a un po' di anni fa chi mai avrebbe pensato che le foto che noi facciamo sono foto di noi stessi cioè la centralità del cliente il selfie culturalmente noi stiamo tornando a essere al centro cinque anni fa le foto le facevamo ai panorami adesso andiamo tutti in giro così e ci siamo noi in mezzo a un panorama. Credo che la domanda possa andare a battere su questa evoluzione culturale su questo bisogno che noi tutti come clienti viviamo di essere veramente al centro dell'offerta che ci riguarda anche per quello che è il mondo assicurativo e quindi lascio a voi due scegliere o tutti e due dite ognuno la sua magari allora coinvolgere il cliente nella creazione dell'offerta sicuramente è un po' il trend anche questo del mercato assicurativo l'idea del cliente del rendere la polizza che è l'entrecentrica quindi coperta per coprire tutte le microesigenze del cliente però come farlo secondo me deve essere un processo sia consapevole sia inconsapevole quindi deve esserci una parte di fiducia secondo me molto forte e qua mi faccio aiutare dalla tecnologia fondamentalmente quindi come noi oggi diamo molte informazioni a molti player per avere un servizio migliore io mi aspetto essendo responsabile da parte dei dati di Geniot di ricevere molti dati dei clienti che mi permettano di capire le sue abitudini le sue esigenze non dati invasivi ma dati a supporto di quello di cui può avere bisogno e che magari ancora non sa quindi la possibilità di identificare dei trend dei pattern all'interno della sua vita mi permette magari di aiutarlo a educarlo in un mercato come quell'italiano che è sottoassicurato non nascondiamoci dietro il fatto che comunque il mercato italiano non è un mercato dove tutti i rischi vengono coperti in maniera adeguata molti rischi non sono appunto molto assicurati l'altra modalità secondo me è molto interessante è l'iterazione col cliente perché è vero che io ti coinvolgo però ti devo dare dei servizi e qua forse entriamo nella seconda domanda dell'agenda quindi l'idea che non ci sia solo una polizza ma che ci sia anche il servizio quindi l'idea sì di coprire la persona quindi la testa e non la targa tanto poi per andare a slogan ma anche quella di offrirti dei servizi esclusivi basati appunto magari sui dati che dicevamo prima noi come genio ne stiamo pensando alcuni o seguirti nella tua quotidianità io cito una parte che abbiamo fatto nel mondo del car sharing con drive now su cui per i clienti che hanno un buon stile di guida c'è un forte sconto sull'utilizzo del car sharing per questo porta vantaggio anche a me come assicuratore se usi la macchina di qualcun altro come dicevamo prima non utilizzi quella che magari hai assicurato con me quindi secondo me ecco è fondamentale appunto fare due cose ricevere dei dati ricevere informazioni e avere un'iterazione di diretta quindi il discorso delle partnership no prima ne parlavamo al caffè il discorso delle partnership degli ecosistemi dell'iterazione digitale dell'avere un contatto diretto col cliente serve anche a questo a aumentare la conoscenza e a dare diciamo dei servizi che permettano un lock in maggiore del cliente no abbassare il cerno dei clienti in attivi digitali no poi per fare un altro po' di spunti così lanciarli chiaro c'è un tema quindi importante di disponibilità del dato che è là fuori da prendere ma c'è anche un tema rilevante di condivisione di quel dato o volontà di condivisione di quel dato da parte dei clienti con noi per poterci permettere poi di arrivare a fare quelle offerte più verticali in certi mondi questo è abbastanza normale noi tutti accettiamo i cookie solo per entrare su qualunque sito e quindi poi navighiamo con una continua declinazione di proposte commerciali rispetto alle nostre abitudini di navigazione quindi ai nostri interessi non è dato così per scontato che siamo a domanda esplicita disponibili a dare i nostri dati di comportamento stile di guida all'assicurazione perché una certa diffidenza continua a rimanere lì perché uno ha paura sempre di dare degli strumenti per evitare che poi l'azienda liquidi quello che uno si aspetta quindi c'è sempre questa negoziazione di aspetti veramente legati alla fiducia che è crescente tutti gli studi lo dicono ma non è ancora così consolidata Emanuele secondo te riusciremo ad arrivarci a costruire questa fiducia ed è la strada da seguire ma sicuramente riprendo la domanda che è molto molto centrata e va contestualizzata ricordiamoci che stiamo parlando di clientela persone individuali quindi stiamo parlando di un mercato anche se la parola è desueta e brutta tale è un mercato di massa pensare di approcciare con la customizzazione sartoriale un mercato di massa non è un modello di business proponibile però che cosa succede oggi quali sono le opportunità e qui vorrei fare anche un parallelismo con un'altra industria che è l'industria dell'editoria le nuove tecnologie ci permettono di intercettare naturalmente con la collezione di dati da parte dei clienti individuali delle informazioni che possono incontrare questa esigenza latente cioè il desiderio di avere un prodotto personalizzato esattamente rispondente alle esigenze in tempo reale è non più una chimera ma può essere avvicinato proprio con l'utilizzo della lettura dei dati che possiamo ricevere dai nostri clienti e dalle analisi di questi dati il parallelismo con il mondo dell'editoria è molto interessante perché l'editoria online è stata stravolta dall'approccio online con delle implicazioni che non erano attese un valore culturale prodotto su base quotidiana di circa 60 pagine che è un quotidiano che noi andiamo a comprare in ridicola aveva la vita di un giorno l'editoria online ha permesso invece di poter mantenere alcuni di questi pezzi quindi alcuni di questi prodotti a valore per più giorni presenti e disponibili sul mercato dei lettori allo stesso tempo l'editoria online coglie in tempo reale il gradimento o comunque l'attrazione di questi articoli dalla propria platea e che cosa succede? oggi ci sono dei sistemi degli algoritmi che mantengono le notizie più attraenti o più diciamo così viste in primo piano mentre lasciano scivolare di importanza le notizie che non hanno incontrato questa attraenza nella platea ecco questo parallelismo potrebbe guidare la proposizione dei prodotti assicurativi del futuro è chiaro che oggi in un mercato di massa l'industria assicurativa può perdere di intercettare alcuni bisogni con questi sistemi è chiaro che questa intercettazione viene immediatamente captata e questi bisogni vengono captati e quindi si può naturalmente partendo da una base già strutturata provvedere alla composizione di prodotti di offerte di soluzioni che invece una composizione di prodotti tradizionale non poteva incontrare perché le tempistiche di produzione industriale tradizionale non incontrano l'esigenza voglio ricordare un esempio non proprio virtuoso ma tant'è dopo i disastrosi eventi sismici degli anni passati sui mercati online sono comparsi dei player che proponevano polizze per l'assicurazione del terremoto a prezzi molto alti perché in quel momento il bisogno percepito e parlo di player stranieri il bisogno non ovviamente player grandi player ma il bisogno percepito era altissimo la soluzione non esisteva e quindi in questa situazione di latenza di mercato qualche player aveva intraveduto l'opportunità di entrare in un mercato in cui non aveva una struttura distributiva non aveva conoscenza o comunque avviamento e da un lato questa cosa è percepita come anomala dall'altro però è in dubbio che abbiamo dovuto affrontare una prima parte di tempo in quel momento in cui la soluzione assicurativa di mercato non esisteva oggi con un tempo di ritardo direi io con un tempo fisiologico di ritardo le soluzioni di mercato esistono ecco secondo me la tecnologia nella customizzazione dei prodotti e nell'intercettazione nella composizione dell'offerta può dare questo tipo di contributi grazie mille chiederei alla platea se ha voglia di provare a esprimere un'opinione abbiamo parlato di nuove modalità di condivisione di nuovi mezzi di trasporto abbiamo parlato di elettrico adesso non l'abbiamo esplicitamente citato però c'è micromobilità elettrica c'è bisogno di assicurazione per la necessità di spostarsi e non necessariamente per la mia macchina c'è bisogno di assicurazioni tagliate sulle mie esigenze di mobilità e non su una massa anche se in realtà è difficile da declinare ma secondo voi siamo tutti attori di questo mercato o interessati in questo mercato sarà qualcosa che succederà veramente sarà qualcosa che è una bolla avremo delle scoperte incredibili perché cambierà tutto in fretta sarà un movimento graduale qual è l'opinione come ci prepariamo a affrontare tutto questo come lo decliniamo vorrei monopolizzare la discussione ma la mia impressione è che effettivamente le opportunità di crescita di successo per il mercato assicurativo sono notevoli perché c'è un amplissimo mercato potenziale secondo me più in Italia che altrove perché sono e più avanti e perché la società anglosassone è una società individualistica mentre qui invece in Italia essendo la famiglia ancora forte molti non percepiscono la necessità di una copertura assicurativa appunto perché si sentono protetti più dalla famiglia cioè detto questo secondo me il mondo assicurativo le compagnie assicurative italiane rischiano rischiano di trovarsi impreparate perché non è un problema di tecnologia o di strumenti tecnologici che quelli non mancano o comunque si possono acquisire con facilità secondo me è un problema di formazione dei dipendenti dei collaboratori e lì a mio avviso c'è parecchio da fare prima ancora di parlare di strumenti tecnologici bisogna parlare di formazione dei dipendenti delle compagnie e degli agenti dei subacenti che io ho visto purtroppo siamo ancora a un livello qualitativo notevolmente più basso rispetto ai nostri concorrenti europei potrei anche sbagliarmi ma la mia impressione è questa altre opinioni? Alessio Vinati Reale Lab 1828 devo dire che gli argomenti sono molto interessanti dal mio punto di vista però è vero che c'è una grande opportunità ma non sono così sicuro che il mercato assicurativo stia andando alla velocità giusta perché fuori si va a 3.000 all'ora quindi le opportunità ci sono ma la vera sfida sarà cercare di essere preparati la centralità del cliente a me le vostre risposte sono piaciute però qualche qualche interrogativo continuo ad averlo riguarda quello che può essere il modo migliore per acquisire informazioni e poi l'altra domanda che ci potremmo porre di fatto è ma magari non potremmo essere noi assicuratori a provare di fatto a indirizzare quelli che possono essere i comportamenti dei nostri clienti in maniera virtuosa non potrebbe essere anche un punto che potrebbe permettere di fatto a tutti di cambiare un pochino quello che è quello che è il paradigma ma di fatto di trarre valore questo è un punto secondo me interessante cosa ne pensate? ma è un ottimo spunto di riflessione io rimango sempre un po' dubbioso sulla sull'approccio educativo di indirizzo che i player assicurativi devono avere o desiderano avere nei confronti di un mercato in realtà io credo nel libero mercato quindi se una soluzione è percepita come di valore è una soluzione che diventa attraente è difficile secondo me poter pensare di insegnare a proteggersi e allo stesso tempo di proporre delle soluzioni la vera opportunità che vedo in questo momento rispetto al passato ho lavorato con le reti distributive e mi ricordo chiaramente la semplicità con cui alcuni agenti di assicurazione mi dicevano il sinistro è il momento in cui la compagnia viene misurata e quindi io posso dimostrare di essere utile questo non è più vero in assoluto noi ci ricordiamo sempre che su una platea di utenti soltanto una parte fortunatamente hanno dei sinistri e solo una parte quindi ha questa esperienza e tutti gli altri e tutti gli altri devono soltanto imparare che serve è una maniera un po' direttiva diciamo così di relazionarsi con i clienti la verità è che bisogna investire e questo sta già succedendo ampiamente sul mercato su esperienze di consumo di servizi assicurativi e non assicurativi a valore percepito che siano di grande positività e quindi oggi la tecnologia ci sta mettendo in condizione appunto di studiare e di proporre delle soluzioni che abbiano lo ripeto sì la protezione in caso di rischio ma anche un'esperienza di contatto semplice con più possibilità di contatto è molto figo dire le chat il whatsapp va bene non dimentichiamoci ancora una volta che è una parte del nostro pubblico che sta imparando ad usare questi metodi anche con diverse lentezze e velocità quindi i canali devono essere tutti presidiati e tutti devono avere un eccellente livello di esperienza per il consumatore e allo stesso tempo l'integrazione con dei servizi lo ripeto diventa fondamentale perché poter pensare di trasformare un rischio coperto da un premio in un utilizzo quotidiano è impropopinibile come modello di business per il rischio che si va a coprire ma questo non significa che non si possa fornire valore aggiunto con delle componenti di servizio che invece possono avere il loro giusto prezzo e valore percepito per i clienti questa è la sfida questa composizione è la sfida e l'opportunità che oggi ha l'industria assicurativa quanti contenuti interessanti tante tematiche dalla formazione della cultura dell'interno delle aziende stesse che deve andare di pari passo qualcuno sostiene anticiparla ma almeno rimanere al passo con l'evoluzione tecnologica ai concerti di influenza su comportamenti concetti di servizio prevenzione mi piace perché non necessariamente abbiamo tutti la stessa idea è bello potersi confrontare e avere anche ipotesi diverse siamo in un mondo che cambia passiamo a rispondere magari a questi stimoli a queste domande ma anche agganciarci al tema di servizio qual è la tua di opinione Francesco? io vorrei prima rispondere costruire un pezzettino su quello che ha detto il collega che ho trovato molto interessante quindi il come come prendere le informazioni io sono un sostenitore delle partnership quindi quello che magari per te non ha senso non ti serve quello che un po' ha fatto Amazon con i cloud con i cloud services no cioè fare quello che nessuno voleva fare un po' il cacciavitaro della situazione offriti un prodotto finito quello che magari per te è un dato che non può esserti utile o che non scusami ma per me magari ha valore o riesco a analizzarlo in maniera migliore quindi io penso che visto che il lavoro dell'assicuratore appunto è analizzare e valutare il rischio forse abbia proprio senso diventare i migliori nella parte tecnica quindi nel capire come prezzare quel rischio e quindi i dati che vado a raccogliere possono essere utilizzati per questa per questa funzione quindi sulla parte invece di fiducia del cliente mi viene da dire che il cliente magari ha un'apertura molto diversa o molto più ampia verso altre categorie magari sul carmaker o sul produttore di smartphone non ha questo tipo di resistenza e quindi quei dati che magari sono in possesso di altri player possono essere anche magari acquistati no? perché può se so che quell'informazione per me ha un valore può essere pagata sulla parte di educazione poi finisco e torniamo alla parte di servizio è un servizio magari fornire servizi educativi e di prevenzione al cliente sì sì fai da oracolo no? cioè tu che sei un fanatico di blockchain magari diventi diventi un oracolo no sulla parte di sulla parte di come educare secondo me c'è un grosso filone che passa tramite la tecnologia quindi noi abbiamo lanciato abbiamo un brevetto su una scatola nera che è il real time coaching che ti educa mentre guidi sui comportamenti scorretti quindi accelerazioni brusche frenate ti dà diciamo un feedback istantaneo e poi ti dà un voto del tuo trip e questo secondo me è molto importante perché comunque mette da evidenza al cliente di un po' quali sono i comportamenti scorretti la provocazione magari è sarebbe bello che un'assicurazione diventasse una media company ci sono molte compagnie che per veicolare un messaggio sono diventate delle media company Red Bull faceva bevande è diventata una media company LinkedIn postava curricula fa molti più soldi sul veicolare contenuti pubblicitari all'interno dei contenuti pubblicati nel sito quindi perché no cioè imparare a fare contenuti che ingaggino il cliente e riducano appunto i comportamenti scorretti la butto là un bel corso di guida che ti fa un pilota di Formula 1 e ti spiega come guidare piano magari è più come dire interessante o veicolare contenuti sui rischi e la prevenzione dei rischi sulle polizze salute quello che provano a fare le scuole che magari non riescono più a fare adesso potrebbe potrebbe aiutarti quindi trasformare quello può essere un servizio scusami quello è anche può essere un servizio è un servizio che tu fornisci alla tua compagnia io parlo da società esterna ma parte del gruppo mettiamoci il cappello del cliente qualcuno di noi considera il fatto di avere uno scoring sul suo stile di vita di guida chiedo scusa o anche di vita un servizio o lo considera uno strumento per poter chiedere uno sconto all'assicurazione e pagarla meno quando sono virtuoso è possibile rigirare questo veramente in un contenuto di servizio trasformarlo in un modo di prevenzione perché a noi interessa darglielo questo scoring perché capiamo quanto ci può costare o quanto possiamo essere efficaci o meno nella gestione dell'indirizzo del rischio nella definizione di tariffa ma io parlo per me e solo per me io come cliente di essere 8.3 verde o 5.2 rosso non è che dico è viva o che schifo non mi cambia però per me è assicurazione cioè perché lo guardi nei confronti di me è assicurazione se quello score ad esempio fosse un score che ti permette esempio stupido però di avere l'auto in car sharing a meno l'auto all'avis l'auto noleggio poter condividere quello score e quindi sapere che tu sei un cliente meno rischioso avere un'auto a noleggio a prezzi più bassi l'auto in leasing se tu guidi piano quando io rientro dal leasing o dal noleggio a lungo termine qua l'auto ha un valore più alto sempre risparmia non mi stai dando un servizio mi stai dando uno strumento per comprare servizi a meno e va bene ma declinarlo del tipo io lo voglio usare ad esempio io sono un papà ho una figlia di 16 anni tra due anni guiderà in quel caso sì che mi piacerebbe sapere quanto mi devo preoccupare e poter aiutare lei a governarlo quindi secondo me il grosso sforzo che è giusto che noi tutti facciamo è partire da questi concetti di base partire da quella che è la nostra natura noi siamo assicuratori ma costruire poi qualcosa che sia una vera offerta di servizio e percepita come tale dal cliente ed è un passaggio difficile è un passaggio che anche il collega che faceva la domanda prima rispetto a quanto è rilevante la formazione si basa anche sul cambiamento di alcune dei mindset degli approcci culturali che noi abbiamo proprio per il mestiere che facciamo da sempre che ne dite se proviamo a muoverci verso i punti successivi cercando di essere un po' ordinati io sono molto disordinato vi è toccato un moderatore disordinato anzi ai voi i nuovi servizi che agevoleranno abbiamo parlato adesso ma proprio un flash secondo me vale la pena parlare la domanda per intero definita è quali nuovi servizi agevoleranno cross e upselling e fidelizzeranno il cliente è una domanda impegnativa è una domanda che può essere presa da tantissimi angoli è una domanda che può partire da tra tre anni tra cinque tra dieci cross e upselling di cosa dicevamo sempre prima al caffè altre offerte assicurative o altre offerte di servizi incrementali nel mondo della mobilità hai citato anche Francesco il tema degli ecosistemi esistono dei nuovi modi di circondare tutti insieme il cliente con attori diversi non solo catene del valore verticali ma di nuovo una circolarità e un'interazione tra attori di industrie diverse per arrivare alla delivery di un servizio end to end a un cliente che è veramente al centro gli spunti sono tanti quali sono le vostre idee rispetto al tema dei servizi e ovviamente le idee vostre ci interessano anche grazie mi aiuta beh questa è la parte più più importante mi piace ancora una volta fare un parallelismo che poi in questo caso non è un parallelismo è una parola che mi ha colpito perché non la conoscevo nel mio settore nel settore retail una volta qualcuno mi ha detto devo riuscire ad aumentare la pedonabilità dei miei punti vendita e beh questo per esempio è un tema che si può trasporre sia sui nostri punti di contatto con i clienti online che nelle nostre reti distributive per esempio è chiaro è ovvio che alcune industrie l'industria bancaria direi prima di quella assicurativa stanno tentando o trovando delle soluzioni per la proposizione di servizi diversi dai servizi core ho in mente una banca in particolare che nell'home banking sta proponendo dei servizi immobiliari di intermediazione immobiliare sempre la stessa banca ma anche altre ha provato a mettere negli home banking degli shop virtuali e quindi a vendere dei beni di largo consumo e magari questi beni finanziandoli con un'offerta finanziaria appunto della banca quindi è chiaro che c'è un tema e c'è un tema sul quale l'industria assicurativa per esempio non si sta dimostrando ancora vincente cioè l'industria assicurativa sta riuscendo ahimè sul canale online ad attrarre i clienti nel momento in cui i clienti hanno bisogno di un'assicurazione se dovessi fare adesso una un sondaggio tra di voi io credo che ognuno di noi sui nostri telefoni abbia più di 30 app obbligatorie o facoltative ma giornalmente quotidianamente voi quante di queste app aprite è nel mese è nella settimana e quali sono i principali 3-4 siti tanto ci sono delle statistiche nazionali e internazionali che sono visitati quotidianamente così come come se fosse anzi come ormai è diventata un'abitudine ok quotidianamente sul proprio cellulare uno va a vedere non so le notizie i social network ecco la sfida è cercare delle soluzioni che permettano al mondo delle banche delle assicurazioni di entrare in questa abitudine quotidiana sia con i punti di contatto online che con i punti di contatto fisici cioè non è una novità che l'industria finanziaria sta pensando sempre nelle aree metropolitane alla creazione di spazi multi attività che possano lo vediamo anche nel nuovo design degli arredamenti della prima banca italiana c'è un approccio in cui gli spazi di fruizione riescano a comunicare sì i servizi finanziari tradizionali bancari ma anche dei momenti di fruizione e quindi di servizio altri ecco l'industria assicurativa questa cosa non sta ancora riuscendo a accoglierla ecco perché forse Gianluca ha voluto citare il momento della formazione come uno dei 2000 servizi che si possono integrare in un'offerta di contatto ai clienti perché non dimentichiamoci l'industria assicurativa ha milioni di clienti che cosa deve fornire a questi clienti è tutto da disegnare ancora perché la tecnologia ci ha aperto queste possibilità quindi l'idea di uno sconto ottima però l'idea di un corso di guida sicura online dedicato a chi mette in condivisione dei dati può essere una cosa che i millennials possono assolutamente considerare attraente magari fatta appunto da un pilota importante e questo dà sia quella parte di formazione che di attraenza che di educazione che può essere completamento o anche parte principale di un'offerta che comprende l'assicurazione e perché lasciarla a player non assicurativi questa è la domanda perché se la proposizione comprende solo in parte l'offerta assicurativa deve essere rilasciata da player altri non è mica detto il cliente è dell'industria assicurativa il cliente ha bisogno di nuove sollecitazioni il cliente deve trovare queste sollecitazioni nel canale di comunicazione che più lo attrae non dimentichiamoci che Amazon ha cominciato vendendo libri forse non ce l'aveva nel business plan iniziale di vendere qualsiasi cosa e di arrivare ai servizi alla pubblicità e alla profilazione quindi questa è una grandissima opportunità i veicoli elettrici vorrei fare una piccola menzione ai veicoli elettrici una nuova modalità di consumo che in Italia ancora non sta spaccando ma il trend è di assoluto interesse le modalità di erogazione di servizi al mondo dei veicoli elettrici è fortemente diverso dagli altri tipi di veicoli quindi riuscire a catalizzare presto una platea di potenziali interessati con dei tutorial con dei servizi di formazione con delle guide di comodità nel senso di sappiamo come renderti facile la vita con un veicolo elettrico e avere delle partnership già con dei player che possono erogare questo tipo di servizi sono stato molto colpito da una soluzione cinese che permette di raggiungere on demand il cliente con una batteria di ricambio nel caso in cui si trovi a distanza superiore a 100 km da una stazione di ricarica magari non è una cosa che succede perché uno compra un veicolo elettrico ha già fatto il suo piano di battaglia dice io lo posso comprare perché ho una rete servizio può succedere che quel giorno quella volta in realtà questa situazione non è prevista ecco avere questo tipo di partnership di servizi è una cosa che apre delle possibilità che oggi in Italia ancora non sono percepite come una possibile proposizione ad un mondo di clienti che è già esistente Francesco mi aiuti a fare un salto quantico andiamo a tra dieci anni stiamo parlando ed è una cosa giusta corretta di cosa possono essere quale può essere l'offerta assicurativa nel prossimo futuro come inserire il concetto dei servizi che mi trovo assolutamente d'accordo ti chiedevo se era in Cina l'esperienza perché probabilmente la batteria gliela consegneranno con un drone a 100 km in quei posti detto questa parte le battute tra dieci anni facciamo dei voli pindarici parliamo di futiribile o di verosimile e non certo di consolidato perché non puoi neanche tu avere la sfera di cristallo e se ce l'hai dammi qualche bel suggerimento ne sarei molto lieto ma le assicurazioni guida autonoma cambiamento dei paradigmi di mobilità cosa faranno? Daranno servizi ai clienti? quali possono essere degli scenari ripeto non pretendo la risposta sarebbe troppo bello ma degli scenari possibili per animare un po' la discussione anche con voi cosa faremo tra dieci anni? Una domanda facile questa io proverei a fare un percorso da qui a dieci anni quindi intanto cosa farei in questi dieci anni prima? Cioè come mi preparerei all'undicesimo anno che forse è un anno complicato perché l'autoguida autonoma la condivisione di autoguida autonoma quelli magari stressano ancora di più il modello assicurativo tradizionale o magari spingono il carmaker verso logiche di autoassicurazione non lo so dico cose che magari il regolatore non permetterà o che non avverranno mai però è un trend su cui obiettivamente se non c'è nessuno che guida e quindi io non posso profilare il rischio o meglio prezzare il rischio di nessuno che sta guidando e l'unico a avere tutte le informazioni è il produttore dell'auto o il produttore del software o magari sono la stessa azienda diventa complicato per me fare una tariffa per quel rischio o magari avrò imparato a farlo quello che ci dicevamo prima cioè quindi diventare molto forti sulla parte tecnica sicuramente però per come dire il concetto di mutualità di cui parlavamo prima magari diventa embedded incluso scusami nell'acquisto dell'auto cioè come oggi nell'acquisto della polizza noi paghiamo quello che è il rischio anche degli altri magari nell'acquisto dell'auto pagheremo il rischio assicurativo della compagnia che ci vende l'auto anche per terzi o magari visto che sarà una mobilità molto condivisa saremmo assicurati noi come obbligatoriamente come teste circolanti e non i veicoli questi sono magari i scenari su cui potremmo discutere è interessante come secondo me ci arriviamo cioè come ci prepariamo a quel momento obiettivamente secondo me diciamo le direttrici poi un po' quello che abbiamo fatto anche con Geniot sono un primo passo è scalare la catena del valore cioè prima chiedevi come fare app e cross app selling e cross selling è obiettivamente complicato all'interno dello stesso mondo assicurativo perché lo facciamo da tanti anni siamo molto bravi se ci facciamo delle domande vuol dire che forse dobbiamo un po' cambiare modello e quindi secondo me scalare la catena del valore può essere un modo con Geniot appunto lo facciamo nell'ambito della telematica quindi diciamo noi forniamo le scatole nere ai clienti noi gestiamo la parte dati che è una tutto quello che era lasciato al TSP è una storia simile alla mia quindi sai di cosa sto parlando sulla parte di cross forse dovremmo proprio intercettare dei pattern esterni quando Emanuele prima parlava delle app a me è venuto da pensare che l'ultima volta che sono stato a Londra io prima del roaming anzi l'ultima volta prima del roaming che sono stato a Londra usavo CityMapper per muovermi in città che ti dice le coincidenze gli orari i bus e alla fine CityMapper cosa ha fatto? nell'ultimo anno ha lanciato due servizi molto forti uno ha lanciato i suoi bus perché sapendo dove vanno i clienti in che orari si muovono con la quantità di utenti che aveva ha lanciato i suoi bus l'altra cosa che ha fatto che ha lanciato pochi mesi fa molto interessante ti offre in un abbonamento la Oyster Card quindi la carta dei mezzi che sa quanto utilizzi bene o male e della mobilità in condivisione quindi ti dava dei minuti gratuiti in abbonamento mensile annuale o anche giornaliero per utilizzare il car sharing londinese lo scooter sharing il bike sharing quindi io come assicuratore se ho una profonda conoscenza del cliente i servizi che posso offrirgli in cross sono secondo me una parte come dire in partnership e qua torno sul concetto stressato prima per appunto andare a quel punto a estendere la mia catena del valore quindi non andare su o giù ma a muovermi orizzontalmente questo secondo me ci aiuta un po' a prepararci per il futuro perché vuol dire mettere le mani e tornare la tecnologia proprio col cacciavite su temi che oggi non sappiamo affrontare lo stiamo facendo come Geniot in ufficio da me c'erano profili che fino a 5 anni fa non esistevano data scientist persone brave sul front end per avere diciamo relazioni col cliente esperti di UX di UI software dev mettine quanti ne vuoi quindi competenze che non esistevano una volta ne vorrei tanti mettine quanti ne vuoi ne vorrei tanti esatto e quello ti permette di avvicinarti di capire il fenomeno perché se no c'è un distacco talmente forte c'è una distanza talmente importante incolmabile che non sarai mai pronto quindi questo è il modo di partire poi fra dieci anni cosa faremo non lo so spero di continuare a fare questo lavoro cioè questo è sicuro quindi vorrei vorrei aggiungere una cosa perché vorrei riprendere la premessa è chiaro che nelle aree metropolitane la contaminazione tra servizi che oggi già esistono potrà diventare fortissima quindi se noi pensiamo alle disponibilità che una città come Milano dà a questo tipo di contaminazione una cosa che esiste solo a Milano in Italia oggi però noi davvero potremmo pensare ad una contaminazione fatta appunto con un unico punto di contatto che chiameremo portale di una compagnia di assicurazione che per esempio permetta di non avere un'automobile e di poter avere un noleggio ad ore di un mezzo nel caso in cui si debba trasportare delle merci ad uso privato bike sharing car sharing treni metropolitane servizi collegati a tutta questa fruizione di fatto stiamo dicendo che il paradigma del nostro profilo di rischio diventa la persona e non il mezzo ma questa è già realtà oggi quindi lo studio dei dati di fruizione di servizi diversi delle singole persone o dei gruppi di persone o delle famiglie possono determinare delle contaminazioni di offerta di rischio e di servizio che sono impareggiabili quello che non dobbiamo dimenticare di nuovo è che questo può accadere nelle aree metropolitane cioè dove c'è una elevata disponibilità di questi servizi nelle aree invece altre la offerta di prodotti e di servizi assicurativi credo che nei prossimi anni continuerà a seguire il mezzo e la persona quindi ci sarà un binomio che non potrà dimenticare il parco circolante i nuovi mezzi che verranno venduti sul mercato che avranno nuove tecnologie questo sì e quindi si dovrà trovare una soluzione di interrelazione dei dati e di correlazione dei dati delle persone e dei mezzi per essere più efficaci nella proposizione di servizi e prodotti assicurativi di nuovo tanti tanti spunti interessanti prodotti e servizi assicurativi prevenzione e gestione del problema quanto questo occorre potrebbero essere considerati questi i grandi macroambiti che vengono definiti servizi assicurativi o ci spingiamo oltre e nel mondo della mobilità ci allontaniamo da quelli che sono gli ambiti più vicini e anche tramite dei sistemi di partnership allargati e completamente inattesi ai giorni oggi possiamo immaginarci degli scenari un po' più estremi lo chiedo ai nostri ospiti ma tutte queste domande sono anche rivolte a voi anzi ci piacerebbe molto sentire opinioni piuttosto che ulteriori domande ma anche qualche opinione qualcuno di voi cosa pensa dell'evoluzione dell'offerta di servizi da parte delle assicurazioni c'è qualcuno che ha voglia di esporsi anche dietro allora ci puoi far intervenire qualcuno per una volta da dietro le spiace sì anche entrambo brevissimamente va bene poi dopo lascio altri ma l'offerta qui in Italia sta crescendo ma a mio avviso non quanto sia in termini quantitativi che in termini qualitativi il mercato meriterebbe e richiederebbe condivido abbastanza devo dirle grazie buongiorno Dario Sottana di Corvallis io credo che la creatività dell'offerta non manchi alle compagnie però nel quotidiano credo che lo scoglio di percezione del vostro creente medio sia ancora un po' legato a visioni ancestrali della polizza auto obbligatoria quindi il ruolo assistenziale nel senso assoluto quindi parliamo di business che la compagnia può avere verso il cliente è molto più di valore dell'attuale percepito quindi bisognerebbe trovare la chiave a mio avviso un modesto parere è trovare il canale di comunicazione che riduca questa distanza e allora il canale di trust apre a raccogliere il dato capire che stile di vita fai che cosa ti interessa e di conseguenza di tutto quello che una compagnia oggi può pensare può fare la classifica dei prodotti o servizi che sono ritenuti più utili oggi quindi questa distanza secondo me anche da consumatore è ancora abbastanza percepita cioè molti di vostri clienti secondo me non sanno tutto quello che voi pensate di offrirgli da qua ai prossimi dieci anni corretto condivido grazie mille per lo stimolo personalmente alcune riflessioni anche su questa base mie personali le ho magari le condivido brevissimamente bisogna distinguere a mio personale avviso due tipologie di clienti i clienti di oggi che hanno una relazione di conoscenze di trust e delle aspettative nei confronti delle compagnie assicurative che sono consolidate su una storicità e una infinita prateria di nuovi clienti che hanno bisogni e che non sono biased non hanno dei pregiudizi o dei preconcetti dove forse il trust lo possono ereditare in piccola parte abbiamo una carta da giocarci ma non lo darei neanche così tanto per scontato perché comunque non abbiamo una reputazione così mostruosamente di valore soprattutto nei confronti delle generazioni più giovani e dove il percorso non è quello di cambiare o colmare un gap ma di costruire un ponte che ancora non esiste quindi io la vedrei proprio sotto due angoli di nuovo con delle vicinanze maggiori al nostro business attuale e con alcuni lanci un po' più lunghi sui concetti di mobilità completamente nuovi che sono anche molto più vivi nei giovani mantenendo anche l'infinita complessità delle differenze esistenti e che permarranno tra mondo metropolitano e resto del mondo abbiamo una bella matrice di complessità da indirizzare voi rispetto a questi stimoli cosa ne pensate? ma sicuramente c'è una grande verità per tradizione l'industria assicurativa è percepita come una industria che si presenta in maniera complessa ai propri clienti e oggi la semplicità è diventata una chiave di successo che non significa semplificare l'offerta io credo che dietro un'esperienza semplice ci sia bisogno di grande complessità ma questa complessità non deve essere percepita ripeto il successo di player online come Amazon come Booking come Expedia si fonda sulla semplicità e l'auto apprendimento di un'esperienza ci sono dei livelli ormai di eccellenza nell'esperienza che sono diventati un paradigma ecco presentarsi con una grande idea sul mercato e un'esperienza di fruizione appena sufficiente non si può più neanche cominciare questo è il grosso cambiamento fino ad oggi avevamo detto è un mercato regolamentato è un mercato che necessita di alcune passaggi alcune tutele alcuni documenti stiamo accelerando anche perché il regolatore ci ha chiesto di accelerare con delle direttive molto chiare verso un approccio semplice nella sua percezione che contenga già in automatico tutte quelle tutele quei presidi che sono dovuti ad un mercato ecco questa è la chiave per arrivare con messaggi nuovi ed oggi non percepiti se la comunicazione dovesse rimanere complessa tutti questi prodotti altri dall'assicurazione danni auto non verranno neanche presi in considerazione sebbene potranno avere fantastico valore da erogare grazie Emanuele Francesco un ultimo contributo su questo tema e poi proviamo a fare temo che è passato velocissimo il tempo siamo in chiusura beh una provocazione è vero che come dire è vista come una tassa la polizza auto però prova a immaginarti un mondo senza polizza obbligatoria cioè un mondo dove esci e se succede qualcosa non sai no 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 lo so però quindi quello è secondo me la prima cosa da far percepire al cliente indipendentemente dalla complessità delle garanzie come vengono modulate e tutto però il bisogno primario che è quello di copertura di assistenza deve essere percepito dobbiamo riuscire a farlo percepire l'ultima cosa io adesso per andare anticiclico vorrei tornare invece sulla parte di vicinanza del cliente quindi prima abbiamo parlato molto di tecnologia secondo me è molto importante anche il rapporto il rapporto umano la parte agenziale come citava prima il collega è molto interessante solo un piccolo esempio recentemente abbiamo fatto un mystery shopping nelle nostre agenzie con dei consulenti e uno dei consulenti erano molto giovani valutavano un po' l'esperienza di acquisto in termini sia di UX di UI poi di strumenti a disposizione del cliente e uno di questi ragazzi aveva 24 25 anni non era mai stato in un'agenzia è tornato e aveva acquistato una polizza e soprattutto perché aveva scoperto che aveva un prezzo più basso di quello che aveva trovato online per due motivi il primo è l'esporre i contenuti la facilità nell'esporre i contenuti soprattutto quelli come dire sensibili il prezzo le garanzie ti permettono di essere comparato non sempre la comparazione porta a una reale convenienza perché se ci allineiamo tutti non ovviamente in maniera concordata ma se riesco a vedere che le altre tariffe sono più alte di solito non è che arrivo con una tariffa molto più bassa e soprattutto rischiare alcuni prezzare alcuni rischi su cui abbiamo informazioni parziali quindi da alcuni dati riempiti su un form non è sempre così facile quindi secondo me quello che diceva prima il collega è molto interessante però magari può essere fatto anche con logiche di rapporto umano molto formato per riprendere lo spunto suo perché comunque è corretto è corretto è una relazione complessa e non sempre è facile far passare da noi alle nostre agenzie quelli che sono i concetti che devono poi filtrare verso il cliente grazie mille Francesco temo che siamo arrivati in chiusura io non ho la pretesa di essere in grado di fare una sintesi abbiamo toccato veramente tanti tanti ambiti e tante tematiche a mio personale e modesto avviso decisamente molto molto interessante il mondo della mobilità sta cambiando a una velocità incredibile le assicurazioni sono player fondamentali nel mondo della mobilità ci saranno direttrici diverse ci saranno momenti di discontinuità forte che dovremo affrontare credo che tutti noi dovremo tenere le antenne molto aperte e essere molto coscienti che come è sempre stato ma ancora più oggi dobbiamo riuscire a saltare il fosso iniziare a pensare di muoverci in un mercato di domanda piuttosto che un mercato di offerta che è il grosso cambiamento culturale che ci troveremo a dover affrontare abilitato da nuove tecnologie e nuovi trend il cliente al centro io ringrazio moltissimo ancora gli ospiti che hanno animato questa discussione grazie Francesco grazie Emanuele e grazie a tutti grazie a tutti grazie a Gianluca Lorenzi Head of Reale Lab di 1828 di Reale Mutuo Assicurazione ad Emanuele Basile di Allianz Partner a Francesco Gottardo di Generali Geniot e a Simone Nardoci di G Evolution e naturalmente grazie a tutti voi per averci seguiti la mattinata è stata avuto veramente degli spunti molto interessanti si parla adesso di fare effettivamente questo grosso salto culturale che porta a vedere come obiettivo il cliente al centro e quindi in modo avvolgente dandogli una serie di servizi allargati e io vi ricordo la prossima edizione che si svolgerà del New Insurance Day ve lo ricordo in anticipo il 28 maggio 2020 e appunto con il New Insurance Day noi seguiamo proprio l'evoluzione del mondo assicurativo quello che viene richiesto quindi vedremo di che cosa si parlerà nella prossima edizione l'evoluzione Grazie.